Se le azioni di misericordia di Gesù diventano per noi ostacolo a credere, significa che abbiamo una falsa immagine del Messia. Lo ha sottolineato questa mattina Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale, tenuta in piazza San Pietro davanti a 40.000 fedeli sul tema «È la misericordia che salva», nella quale è analizzato il brano del Vangelo che narra della domanda di Giovanni Battista a Gesù «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» rivolta dal carcere tramite i suoi discepoli. Giovanni Battista soffre nel buio anche spirituale della cella e sa che Gesù non ha iniziato la sua missione come un giudice mandato da Dio per punire i peccatori, come il profeta si sarebbe aspettato. E infatti, ha chiarito il Papa, Gesù risponde di essere lo strumento concreto della misericordia del Padre che porta consolazione e salvezza, manifestando in questo modo il giudizio di Dio. I ciechi, gli zoppi, i malati non sono più esclusi e il malvagio è rivolto l'invito alla conversione perché, vedendo i segni della bontà divina, possano ritrovare la strada del ritorno. Come il Battista nel dubbio e dopo di lui molti del suo popolo, anche oggi, ha spiegato Francesco, l'uomo costruisce immagini di Dio che gli impediscono di gustare la sua reale presenza. Alcuni si ritagliano una fede «fai di te» che riduce Dio nello spazio limitato dei propri desideri e delle proprie convinzioni. Ma questa fede non è conversione al Signore, che si rivela, anzi, gli impedisce di provocare la nostra vita e la nostra coscienza. Altri riducono Dio a un falso idolo, usano il suo santo nome per giustificare i propri interessi o addirittura l'odio e la violenza. Per altri, ancora, Dio è solo un rifugio psicologico in cui essere rassicurati nei momenti difficili. Si tratta di una fede ripiegata su se stessa, impermeabile alla forza dell'amore misericordioso di Gesù che spinge verso i fratelli. Il cristiano, invece, ha concluso il Papa, crede nel Dio di Gesù Cristo e dobbiamo quindi impegnarci a non mettere ostacoli all'agire misericordioso del Padre e diventare segni e strumenti di misericordia. Dio di Gesù Cristo e dobbiamo quindi rimanere segni e strumenti di misericordioso del Padre